La voce del mare nella conchiglia ascolta il bambino e si meraviglia Pronto? Ti aspetto, il mare dice Ho navi e isole per farti felice Vorrebbe rispondere il bimbo al mare Prepari i pesci, verrò a pescare Ma non è certo di parlare bene La lingua dei pesci e delle sirene Si stima che ogni anno 8 milioni di tonnellate di plastica finiscano negli oceani Molti pensano che il problema sia legato solo ai sacchetti O agli altri piccoli oggetti ingeriti da balene, fochi, uccelli Ma la questione è più complessa Le microplastiche stanno subentrando nella catena alimentare marina Forse non è ancora troppo tardi Forse possiamo fare ancora qualcosa insieme Grazie a tutti